bene signori benvenuti il monte carmelo di cui parleremo di cui parlerà l'oratore questa sera anche se gli accenerà solo brevemente è uno di quelle classiche montagne sante tipo moche missel o tipo il monte sinai o tipo tabor o il monte sant'angelo del gargano e così via dove dai primi tempi l'umanità gli uomini hanno cercato di parlare con le divinità o dove la divinità parlato agli uomini è famoso sono famose le sue grotte a partire da un migliaio di anni prima di cristo con la famosa grotta del profeta elia elia fra l'altro è uno di quei profeti di cui non si è mai accertata la morte la leggenda dice che fu trasportato in cielo su un carro di fuoco e non risulta che ci sia una sua tomba in ogni caso di elia ci sono ben due grotte io ne ho visitata quella del monte carmelo non l'ho visitata anche se ci sono passato mentre invece ce n'è un'altra sul monte sinai proprio a poca distanza dalla vetta e di cui nel racconto biblico c'è ci sono grandi grandi riferimenti il monte carmelo è una sorta di catena di una ventina di chilometri che fa da balconata sul mediterraneo e determina la magnifica baia di haifa da haifa a san giovanni acri una delle più belle baie del mediterraneo uno dei posti boscosissimi a poca distanza dal libano posti classici veramente ben scelti questi nostri antenati avevano in gran parte i più bei posti che ci sono al mondo fateci caso adesso sono magari hanno i resti di conventi medioevali ma andarci indietro quando arriviamo alla preistoria sono stati scelti per una qualche ragione per un qualche motivo sul carmelo è il versante occidentale del carmelo che costellato come anche quello orientale da molte grotte perché il carmelo è fatto di calcari del cretaceo e quindi questi calcari si classificano con una relativa facilità il livello del mare con le sue fluttuazioni ha determinato vari livelli di queste grotte e queste grotte dai 100 metri sopra il livello del mare attuale fino ai 3 400 sono varie diffuse e già fin dagli anni 30 del 900 erano diventati e sono diventati un luogo tipico benvenuto don fiorenzo un luogo tipico della preistoria perché ci sono resti di culture preistoriche a partire da circa 500 mila anni che arrivano fino all'olocena in sostanza e negli anni ottanta fece scalpore la scoperta di una ventina di sepoltura di una ventina di individui in particolare di individui di di uomo omo sapiens sapiens diremmo uomo moderno accomunati in una grotta la grotta di tabù nella grotta school e anche con resti di ragazzi di tipo chiaramente neandertaliano quindi questa prima è stata fu la prima prova la prima evidenza diretta di non possiamo dire di coabitazione perché in teoria diciamo i resti sapiens potrebbero essere vissuti nelle stesse grotte in tempi alternanti con quelli in cui erano presenti anche neandertal in andata erano praticamente degli uomini glaciali no la valle di neandertal è uno dei posti più ecco questo invece è un caso brutto almeno io ne ho un'esperienza brutta perché quando io andavo a trovare mia moglie mia la mia futura moglie nel nord della germania vicino a dort eccetera ci arriva su uno di quei paurosi ponti stradali autostradali della rur negli anni sessanta la rur era ancora affumicata era nera ancora a un certo punto immediatamente vedevate il cartello neandertal e sulla destra in un buio spaventoso di polvere vedevate la valle che si allungava in alto dove sono stati trovati i primi crani di neandertal ecco comunque non è necessariamente la prova di una convivenza però si va molto vicino si sospetta molto tanto più che poi da allora successivamente si è visto che molte popolazioni del mondo che non hanno niente a che fare con neandertal popolazioni di sapiens hanno tutti una certa eredità di sapiens nel loro patrimonio genetico ci sono anche qui delle cose di un grandissimo interesse per chi tratta di questi argomenti vada a dire il fatto che gli europei che dovrebbe essere in casa loro con neandertal i centro europei hanno meno caratteri gli europei sapiens sono meno influenzati da neandertal di quanto non lo siano gli asiatici e così via tutta una serie di problemi di cui i due personaggi che in prima fila sono degli esperti cultori ma oggi non parliamo di questo semplicemente per ricordare l'importanza di questa tematica oggi è il nostro relatore che parte dell'uditorio conosce già affronterà invece il problema del motivo per cui dopo aver convissuto almeno da 90 mila a circa 45 mila anni fa insieme neandertal il tipo neandertal la sottospecie neandertal o la specie neandertal io preferisco andare all'antica come mi insegnava il giovane professor facchini nel 1957 lui era neolo avoreato da un anno un anno e mezzo due e io andavo al secondo anno di geologia a fare il corso di antropologia perché mi interessava e mi piaceva bene e per quale ragione sono spariti così l'improvviso mentre invece prima probabilmente andavano anche a nosse se c'è un patrimonio genetico che di tipo neandertaliano che è stato redistribuito anche nel sapiens e forse uno dei siti dove andavano anche a nosse potrebbe essere proprio quello delle grotte del monte carmelo ecco questo problema viene indagato da chi ne parlerà oggi sulla scorta di caratteristiche che sono la sua specialità della fluttuazione dell'intensità del campo magnetico i palomagnetisti studiano anche questo il campo magnetico cambia cambia la sua intensità cosa vuol dire vuol dire che in qualche momento il sistema e la polarità magnetica attuale con il nord al nord e con il sud al sud si inverte e la vostra possibile bussola a disposizione anziché penetrare al nord e uscire al sud farebbe l'opposto ci sono casi in cui questo processo di inversione tende ad avvenire e poi però non sfora appena appena passa appena dirà e poi si ferma e ritorna indietro queste si chiamano escursioni lui indagherà una escursione che è quella di la champ che guarda caso cade proprio intorno a quel fatidico 40 45 mila tra 40 e 50 mila dove anche i neandertal scompaiono ringrazio giambattista per l'introduzione vi ha già detto un po' di cose così mi ha facilitato diciamo la presentazione oggi parliamo di neandertal e in particolare guardiamo il mistero della loro scomparsa un argomento che in scienza può essere chiamato un cosiddetto hot topic diciamo che qui per l'università di bologna è particolarmente hot visto che recentemente un ricercatore dell'università di bologna ha preso un erc grant della comunità europea di diversi milioni di euro per cercare di risolvere esattamente questo problema della scomparsa dei neandertal in questa figura ho cercato di riassumere tutti gli argomenti di cui vi parlerò non vi spaventate vedete che alla fine andrò a confluire verso una soluzione che ho tenuta nascosta perché non mi volevo rivelare l'assassino all'inizio del film se no poi andavate a casa quindi vi farò vedere la soluzione alla fine quello che potete notare che gli argomenti di cui vi dovrò parlare vanno dalla paleoantropologia alla geofisica alla medicina alla genetica alla fisica dell'atmosfera quindi in campi di cui forse l'intelligenza artificiale si può cimentare e che sono molto difficili diciamo di combinare da combinare tra loro io cercherò di essere diciamo anche perché non avrei diciamo la il background necessario per entrare in tutti questi argomenti perché si tratta di argomenti molto lontani e da loro spero di riuscire a trasferire quella che è la mia idea allora homo deandertalensis cosa sono questi neandertal allora nel 1856 hanno trovato in una cava vicino dusseldorf nella valle di neander da lì il nome questo strano fossile che vedete nella figura di cui appena fu trovato ci fu una ridda di ipotesi su cosa potesse essere qualcuno pensava appunto che si trattasse di una specie umana sconosciuta secondo altri invece doveva essere un umano malato un mongoloide qualcosa di strano quindi non si capiva e soltanto un po' di anni dopo nel 1864 finalmente si riuscì a capire che si trattava di un fossile di uno mini di una specie omin e il il geologo william king suggerì di chiamarlo homo deandertalensis successivamente si restero conto però che esistevano già degli altri fossili di questo tipo che erano stati individuati in belgio e a gibilterra e attualmente questi diciamo fossili più antichi sono considerati loro diciamo i primi veri resti di una di questa primitiva specie umana sostanzialmente l'analisi del dna ha fatto vedere come ha detto poco fa anche il professor vai che sono strettamente legati a noi sapiens quando sono comparsi questi neandertal studi dell'antico dna insieme a studi sulle variazioni craniali dei fossili che sono stati ritrovati ci fanno vedere diciamo che la divergenza che la vedete qui praticamente scusate la divergenza del dei neandertal è avvenuta tra 4 e 500 mila anni fa mentre utilizzando una diversa stima del di quello che si chiama il mutation rate cioè del tasso di mutazione si trovano delle età un po più antiche che possono arrivare fino a 5 600 700 quasi fino a 800 mila anni comunque questo diciamo è l'intervallo di tempo in cui ci muoviamo la cosa interessante di questi neandertal è che studiando diciamo la popolazione nel record fossile all'improvviso circa 40 mila anni fa scompaiono fino a una decina di anni fa si pensava che i neandertal fossero scomparsi tra i 30 e i 40 mila anni vedete qui una serie di mappe dove c'è la distribuzione di neandertal dove ancora 35 mila c'erano un po di neandertal nel sud della francia nei in spagna in portogallo nel 2014 però i ricercatori delle università di oxford guidati dal professor rigam hanno ridatato con metodi diciamo all'avanguardia tutti i siti europei in cui erano stati trovati neandertal e hanno visto che li hanno retrodatati tutti nella fascia che vediamo qui quindi tutti erano scomparsi tra i 45 mila e i 40 mila anni ora quando si vogliono fare questi tipi di lavori cioè capire quando è comparsa una specie o quando è scomparsa una specie come in questo caso bisogna tener conto di quello che si chiama il senior lips effect cos'è il senior lips effect signore lips erano due ricercatori e hanno emanato una specie di diciamo di postulato se vogliamo chiamarlo così ci hanno detto che poiché il record fossile non è mai completo noi non abbiamo mai la possibilità andando in campagna di trovare quella che è la prima specie di una comparsa o l'ultima specie di una scomparsa quindi quando noi vogliamo sapere quant'è che sono scomparsi i meandertal invece di andare a guardare i singoli siti uno a uno dobbiamo focalizzarci su questa data che vediamo in questo punto qua che rappresenta la fine del musteriano cos'è il musteriano il musteriano è l'industria tipica dei meandertal usata soltanto da loro e quindi quando noi vediamo che questa industrialitica non si trova più nel nostro record fossile allora possiamo dire che quella è la data della scomparsa e potete vedere che qui la data è tra circa i 40 e i 41 mila anni ora l'estinzione dei meandertal rappresenta uno dei grandi passi della evoluzione umana e rimane tuttora un problema paleoantropologico aperto esistono almeno una dozzina di ipotesi sulla scomparsa dei meandertal e diciamo possono essere raggruppate in tre principali categorie quelle che prendono in considerazione i fattori ambientali e climatici quelle che prendono in considerazione la competizione con i nostri antenati sapiens e poi quelle che prendono in considerazione diciamo io l'ho chiamato un esternal source un forstand esterno un ipotesi di cui mi sento in in qualche modo di poterne rappresentare la paternità diciamo così visto che l'intelligenza artificiale è di moda mi sono permesso di chiedere a chat gpt cosa ne pensasse lui della dell'estinzione dei meandertal usando così come curiosità per capire cosa mi diceva e vedete che in qualche modo è stato d'accordo con quello che vi ho detto io cioè lui ha riconosciuto che c'era diciamo che ci sono ipotesi basate con sull'interazione con i moderni esseri umani poi ci sono ipotesi basate sui cambiamenti climatici lui tira fuori anche delle idee basate sui cambiamenti della dieta ma secondo me i cambiamenti della dieta rientrano o nei cambiamenti climatici o nell'interazione dei con i moderni esseri umani perché chiaramente se devi variare la dieta vuol dire che non riesci più a trovare il cibo che solitamente utilizzavi e questo dipende o da variazioni climatiche o dal fatto che qualcun altro sta compete con te per procurartelo alla fine diciamo della sua diciamo di quello che ha detto l'intelligenza artificiale vediamo che lui riconosce che ci sono alcuni che suggeriscono che potrebbero esserci stato che potrebbe esserci stato un evento precipitante come una malattia o una catastrofe naturale che ha portato alla loro scomparsa e questo è quello che io ho chiamato il forzante esterno di cui vi ho appena detto ora i fattori climatici ambientali sono stati i primi che sono stati tirati in ballo per l'estinzione dei neandertal perché i neandertal abbiamo visto che si sono estinti circa 40.000 anni fa questa è una curva diciamo delle temperature degli ultimi 150.000 anni diciamo è la differenza di temperatura non la differenza di temperatura assoluta vediamo che 40.000 anni fa qua quando si sono estinti neandertal non è che facesse particolarmente caldo particolarmente freddo da dire ok si sono estinti per quello però quello che vediamo è che in quell'epoca ci sono state delle rapide oscillazioni climatiche da caldo a freddo in periodi molto brevi che non si considerano mai viste prima in letteratura queste variazioni si chiamano cicli di Danzgarescher e secondo alcuni sono stati proprio diciamo queste alterazioni veloci del clima che hanno portato alla scomparsa dei neandertal perché se fa molto freddo e poi lentamente va al caldo ti puoi adattare o viceversa ma se invece da un giorno all'altro un giorno fa caldo un giorno fa freddo come oggi giorno sostanzialmente hai più difficoltà ad adattarti e quindi questo secondo alcuni era il motivo dell'estinzione ovviamente col tempo diciamo si è capito che diciamo non poteva essere semplicemente così e si è cominciato a tirare in ballo l'arrivo dei nostri antenati sapiens qui vediamo c'è un lavoro riuscito nel 2020 da timmerman in cui facendo delle modellizzazioni non solo delle variazioni climatiche ma anche diciamo di come era cambiato il paesaggio in cui vivevano i neandertal si poteva arrivare diciamo ad un qualcosa che poteva portare all'estinzione ma che in realtà la vera estinzione si poteva avere soltanto se si introduceva l'arrivo dei nostri antenati sapiens. L'arrivo dei nostri antenati sapiens diciamo ha moltissimi diciamo ci sono moltissimi paleoantropologi seguaci di questa idea e di fatto l'idea è quella della competizione di fatto si pensa che i nostri antenati sapiens avessero delle abilità cognitive superiori delle tecniche di caccia delle strategie di sussistenza molto superiori a quelle dei neandertals e quindi si fossero adattate meglio adattati meglio a quelle che erano le variazioni climatiche appunto e quindi fossero sopravvissuti più facilmente dei neandertals a queste variazioni che abbiamo visto prima. Inoltre diciamo si pensava che i sapiens avessero dei social network, c'è un modo di stare insieme molto diciamo migliore di quello dei neandertal. Tuttavia tutte queste idee della superiorità dei sapiens di rispetto ai neandertals di recente hanno cominciato a vacillare dicendo man mano che si sono fatti nuovi ritrovamenti archeologici paleontologici in campagna ma soprattutto grazie agli studi dell'antico genoma si è visto che il gap culturale tra noi e i neandertal non era così grande come si pensava e quindi queste idee della nostra superiorità rispetto ai neandertal oggi stanno cominciando a vacillare. Inoltre l'arrivo dei sapiens poteva avere anche portato a un qualcosa tipo quello che è avvenuto in Sud America quando sono arrivati gli spagnoli, erano più abituati gli spagnoli a delle malattie che in Sud America non avevano mai visto e quindi dopo tutti gli indios sono morti per quello. Lo stesso poteva accadere all'epoca dei neandertal perché i sapiens arrivavano dall'Africa, un territorio completamente diverso e quindi potevano avere un diverso tipo di reazione del loro organismo rispetto anche a nuovi patogeni che si potevano creare considerando anche che come ha detto il professor Vai c'è stata un'introgressione, c'è un interbreeding tra noi e i neandertal. Ora quindi queste erano le ipotesi che fino a non tanto tempo fa andavano di moda, nel 2019 insieme ad un collega dell'Università della Florida abbiamo scritto un articolo che vedete qui sulla sinistra che non aveva niente a che vedere con i neandertal praticamente, noi non avevamo, non era quello il nostro target, ma che però il risultato principale dell'articolo riguarda proprio la scomparsa dei neandertal. Di fatto queste sono le stesse date che vi ho fatto vedere prima delle datazioni di tutti i siti europei ridatati da Iga Metalli nel 2014 e vediamo che tutte queste età cadono all'interno di un crollo del campo magnetico terrestre conosciuto col nome di escursione di La Chambre. Com'è l'escursione di La Chambre? Il campo magnetico terrestre, il professor Vai l'ha anche anticipato poco fa, ogni tanto immerte la polarità, ogni tanto però invece di invertire la polarità fa finta, cioè fa un'immersione abortita diciamo così, quindi si abbassa, va a zero, poi invece di cambiare la polarità ricresce nella stessa direzione. Tuttavia nel fare questa operazione deve andare a zero e quando va a zero sostanzialmente che succede? Poiché il campo magnetico terrestre è uno scudo rispetto ai raggi ultravioletti che arrivano dal Sole, noi siamo bombardati dai raggi ultravioletti e quindi questa è stata la nostra interpretazione di perché si siano estinti neandertal considerando che il fatto che la coincidenza tra di età, tra la scomparsa e l'evento di La Chambre non può rappresentare una prova, quindi è necessario trovare delle prove molto più significative. Come vi dicevo il campo magnetico terrestre è una sorta di barriera rispetto ai raggi che vengono non solo dal Sole ma dal cosmo sostanzialmente. Se non ci fosse il campo magnetico terrestre la nostra atmosfera sarebbe spazzata via in un attimo come sarebbe successo a Marte diciamo in tempi antichi. Di fatto i raggi che provengono dal cosmo non diciamo distruggo non sono quelli che sono letali per noi ma sono quelli che vanno ad agire sulla sullo strato di ozono che ci protegge veramente dei raggi ultravioletti. Le radiazioni ultraviolette probabilmente sono state quelle responsabili delle prime reazioni che hanno portato alla formazione dei cluster di ferro e zolfo che sono componenti chiave del metabolismo di tutte le creature viventi. Infatti i primi animali andarono a vivere in acqua proprio per sfuggire ai raggi ultravioletti e altri organismi si sono organizzati colorandosi con colori che in qualche modo li schermavano e inoltre poi la fotosintesi di questi organismi acquatici ha portato ad un aumento dell'ossigeno atmosferico che poi ha creato lo strato di ozono che ci protegge oggigiorno dai raggi ultravioletti. Quando ovviamente si fa un'ipotesi che i raggi ultravioletti legati al minimo dell'evento di La Champ del campo magnetico è stato responsabile dell'estinzione dei Neandertal ci sono almeno tre domande a cui dobbiamo rispondere. Le tre domande sono, primo, perché i Neandertals? Cioè arrivano questi raggi ultravioletti, quelli muoiono e noi sopravviviamo e lo dobbiamo capire perché altrimenti la cosa non sta in piedi. L'altro problema è perché durante il La Champ ci sono stati altri episodi, adesso ne parleremo a breve e quindi come mai? Prima sono sopravvissuti e adesso muoiono durante il La Champ, anche questo è un argomento di cui bisogna tenere conto. L'altra questione da risolvere sono le conseguenze di un campo magnetico debole sufficiente a giustificare un'estinzione? Cioè che cosa è che succede veramente quando il campo magnetico se ne va? Arrivano questi raggi e quindi com'è che sono morti? Cos'è che li ha portati all'estinzione? Anche questo è un argomento che vogliamo conoscere. Allora la prima domanda, perché Neandertals è stata risolta già nella pubblicazione del nostro articolo nel 2019? Perché se non fossimo stati in grado di rispondere a questa domanda l'articolo non sarebbe mai uscito, io non sarei oggi qua a parlarne perché nessuna rivista avrebbe accettato di pubblicare un articolo in cui si notava una coincidenza tra due cose ma non spiegava il motivo. Il motivo devo dire non l'abbiamo spiegato neanche noi, ci abbiamo messo due anni a trovarlo. Il motivo era stato pubblicato da alcuni genetisti molecolari dell'Università della Pensilvenia nel 2016 che facendo degli studi avevano visto che tra noi e Neandertal esiste una variante genetica di una proteina che si chiama il recettore degli idrocarburi arilici, cioè l'aril hydrocarbon receptor OHR e questa proteina è una proteina molto importante, ha una variante nei sapiens che si chiama VAL381 mentre in tutti i Neandertals e anche diciamo gli australopitechi e anche gli scimpanzei e i gorilla c'è una variante che si chiama ALA381. Dall'esperimento fatto da Hubbard e Tull avevano visto che addirittura la differenza nella reazione scusate mi sono dimenticato di dirvi che questa proteina è diciamo ha un ruolo nel contrasto degli effetti della diossina perché noi quando diciamo veniamo colpiti dal reggio ultravioletti subiamo un effetto come se avessimo ingerito la diossina quindi questa è la relazione. Facendo l'esperimento con il TCDD cioè con il tetra non mi ricordo più con quello che noi chiamiamo diossina comunque avevano visto che la differenza tra le due varianti era di 150 volte. Questo numero che io non volevo usare perché mi sembrava diciamo troppo grande infatti non è stato trovato da alcuni ricercatori olandesi che nel 2020 hanno fatto uscire un altro articolo in cui hanno confermato la variante ALA rispetto a Val 381 tra i Sapiens e Neandertal hanno trovato un'altra variante nella posizione qua una variante AG che la vedete qui sempre nella proteina nella posizione che si chiama nella regione non traslata 5 primo. Queste sono cose genetiche di cui probabilmente nessuno qua dentro sa niente forse il professor Volondi potrebbe dirci qualcosa e quindi hanno trovato un'altra variante tuttavia bisogna dire che l'esperimento fatto da questi ricercatori da Ars e Tal è stata fatta con la semplice diossina mentre invece già nel 1987 era stato visto che il formilindolo carbazzolo che è la vera diciamo diciamo quello che veramente agisce quando si viene colpiti dai raggi ultravioletti era circa sette volte aveva una un legame sette volte più potente rispetto alla semplice diossina quindi diciamo questo articolo non ha messo in crisi la nostra interpretazione e alcuni giorni fa meno di un mese fa il 13 maggio è uscito un articolo a nome di Svante Pabo premio Nobel per la medicina nel 2022 per le sue ricerche sul genoma antico e gli autori hanno studiato proprio questa proteina e hanno visto che quella dei Neandertal aveva una diciamo un'attività rispetto a quella dei sapiens molto più grande e questo potrebbe in qualche modo diciamo avere delle implicazioni su quello che noi abbiamo detto devo confessarvi che ho visto l'articolo molto di recente e non l'ho ancora letto in dettaglio anche perché per me è molto difficile leggere questi articoli ma sono sicuro che diciamo questo articolo avrà degli sviluppi sull'argomento ora brevissimo non vi ho detto nulla di cos'è che succede praticamente quando noi veniamo colpiti ma ve lo volevo dire cioè quando noi veniamo colpiti dai raggi ultravioletti di fatto le cellule reagiscono producendo quelle che si chiamano i ROS le specie reattive dell'ossigeno e queste praticamente dopo i raggi ultravioletti vengono assorbiti dal DNA e producono quello che vi dicevo prima il formilindolo carbazzolo e i dimeri di piramidine che sono quelli che portano a fenomeni di apoptotici o di cancerogenesi sono quelli che alla fine ti scatenano un cancro di fatto ora quindi la nostra interpretazione è che la differenza genetica di questa proteina è stata responsabile dell'estinzione dei Neandertal. La seconda questione di cui ci volevamo occupare è come mai i Neandertal si sono estinti durante il Lachamp quando se noi guardiamo le curve di variazione dell'intensità del campo magnetico terrestre negli ultimi 300 mila anni che le vediamo qua vediamo che oltre al Lachamp che si trova in questa posizione ci sono state altre escursioni con minimi anche alcuni sono minori ma alcuni come per esempio quello che si chiama Iceland Basin che è avvenuto 190 mila anni fa ha diciamo la stessa potenza se vogliamo chiamarla così dell'evento di Lachamp e quindi come mai prima sono sopravvissuti e adesso invece si estinguono? L'avevano chiesto in tanti e ovviamente si tratta di quelle domande che dici ma non lo so perché non tutti i giorni sono uguali ci sono alpinisti che vanno a 8 mila metri e poi muoiono a 4 a 5 mila metri è la stessa cosa quindi un'altra delle cause che potevo chiamavo delle possibilità che chiamavo in causa era il fatto che per esempio il campo si abbassa ma si può abbassare con una rapidità che ovviamente non può essere mai la stessa quindi durante il Lachamp potevamo avere una rapidità dell'abbassamento del campo più veloce quindi i Neanderthal non riuscivano ad abituarsi quindi questa era una di quelle domande di cui io non avrei mai pensato nella mia vita di poter rispondere a questa domanda e invece mi sbagliavo mi sbagliavo perché tre anni fa dei ricercatori un gruppo di ricercatori piuttosto corposo guidati dal professor Cooper ha pubblicato su Science un articolo che ha avuto un richiamo pazzesco devo dire un articolo molto speculativo ha avuto dei commenti questo articolo perché forse gli autori hanno esagerato devo dire tuttavia i dati che hanno trovato non possono essere ignorati e ve li farò vedere a breve cosa hanno studiato questi autori questi autori hanno avuto la fortuna neanche fossimo in un film di trovare degli agatis australis cioè degli alberi di caori in nuova zelanda sono degli alberi giganteschi vedete qui nell'immagine quanto sono grandi che erano vessuti esattamente durante il Lachamp e questo praticamente è stata una fortuna soprattutto per loro perché hanno potuto fare diciamo degli studi degli isotopi che arrivavano sulla terra durante l'evento di Lachamp e combinare questi dati con una datazione al carbonio 14 trattandosi di alberi di estremo dettaglio e cosa hanno trovato hanno trovato che non mi voglio descrivere tutte queste figure perché altrimenti stiamo qua un'altra mezz'oretta quindi vi ci concentriamo su questa immagine qua dove vediamo si parte da che va da 40 44 mila anni questo diciamo la banda raffigura tutto l'evento di Lachamp tra circa 42 e 5 e 40 e mezzo sostanzialmente e vediamo che misurando gli isotopi del beriglio 10 che lo vediamo in blu e del terza del carbonio 14 in nero che ci sono nove picchi del beriglio è un grande picco a 42 mila anni nel carbonio 14 che loro hanno chiamato un evento avvenuto secondo loro a 42 che hanno voluto chiamare adams event in onore di uno scrittore di un libro di fantascienza sostanzialmente non entrerò nei dettagli di questo ma questo tipo di record cosa cosa vuol dire quando tu trovi un record di questo tipo vuol dire che in questo intervallo di tempo c'è stata un'attività del sole molto particolare cioè ci sono stati dei minimi dell'attività del sole e il sole diciamo è quello che ci manda i raggi ultravioletti a una doppia azione il sole da un lato ci manda i raggi ultravioletti che diciamo sono in gran parte pericolosi per noi dall'altra parte però contribuisce alla schermatura dei raggi cosmici quindi a questo tipo di gioco quindi quando il campo magnetico quando il campo del sole è minimo i raggi diciamo cosmici possono arrivare sulla terra e possono contribuire a smantellare lo strato di ozono e se non c'è neanche il campo magnetico che ci protegge la situazione diventa veramente drammatica inoltre tra intervalli del minimo del del sole e i massimi del sole ci sono degli eventi come quello che abbiamo visto dieci giorni fa qua da noi che si sono osservati dei si sono osservate delle aurore boreali alle nostre latitudini ecco secondo gli autori durante l'evento di la champ con questa attività del sole ci avevano le aurore boreali pure all'equatore praticamente e quindi si addirittura loro hanno speculato che il terrore di questa cosa perché oltre alle aurore boreali c'erano anche dei fulmini incredibili si ritirarono tutti a vivere nelle caverne e iniziarono l'attività delle pitture nelle caverne sarebbe addirittura iniziata l'arte a causa di questa di questi eventi quindi vediamo qui la modellizzazione possiamo vedere una modellizzazione se c'è solo un campo un semplice diminuzione del campo e la modellizzazione se c'è un minimo del campo ma anche un minimo del sole e vedete che la differenza è molto più grande quindi l'evento di la champ cosa è non è stato semplicemente un minimo del campo magnetico ma si sono associati due processi cioè un minimo del campo è un sole che funzionava in maniera normale ma irregolare cioè il sole lo fa spesso queste cose ma si è andata ad accoppiare durante un periodo in cui non c'era neanche il campo magnetico e questo di fatto ha peggiorato la situazione quindi l'evento di la champ è stato quello responsabile dell'estinzione dei neanderti perché non è stato diciamo un'escursione come tutte le altre ma è stata un'escursione in qualche modo diversa. Adesso dobbiamo guardare la terza questione cioè cos'è che succede quando ci arrivano questi raggi ultravioletti? Io ho già letto che praticamente i raggi vanno ad agire sul DNA questo viene distorto e quindi non può più lavorare come dovrebbe e ci possono venire dei cancri e delle cose di questo tipo. Ci sono articoli in letteratura dove si è visto che questi processi sono avvenuti anche nel passato ad esempio delle spore di piante deformate dai raggi ultravioletti quasi sicuramente sono state responsabili di quella che è la grande estinzione avvenuta tra il carbonifero e il demoniano centinaia di milioni di anni fa. Ci sono anche altri articoli simili. È interessante invece un esperimento che vediamo qui fatto pubblicato nel 2018 che studiava gli effetti dei raggi ultravioletti su un merme, un oligochete che vive nei suoli, l'Enchitraeus crypticus e quindi questo verme vive sotto terra quindi i raggi ultravioletti non li vedi mai. L'hanno bombardato con i raggi ultravioletti ma non con delle dosi letali che dice poveretto lo state diciamo lo volete maltrattare. Gli hanno dato una dose di raggi ultravioletti come quella che prendiamo noi che ne so se d'inverno andiamo alle isole Lofoten a vedere le aurore boreali visto che ci sono vari turisti che fanno questi tipi di escursione quindi una dose assolutamente normale di raggi ultravioletti e si è visto che questa piccola dose di raggi ultravioletti portava a una diminuzione della riproduzione, tenete a mente questo nome, dell'80%. La cosa interessante era che il meccanismo che veniva attivato dai raggi ultravioletti era dello stesso tipo di quello che si attiva negli umani mostrando che quindi questo tipo di cosa si conserva attraverso le specie. Quando noi migriamo i nostri Sapiens sono partiti dall'Africa e sono venuti in Europa, sono partiti da un punto dove c'erano molti raggi ultravioletti perché il campo magnetico è minimo all'equatore e quindi là arrivano molti più raggi ultravioletti, si sono trasferiti poi in Europa e nel resto del mondo e quindi lì hanno dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche ma anche di raggi ultravioletti e questo ha portato a tutta una serie di trasformazioni anche genetiche e di adattamenti che noi conosciamo molto bene. Il nostro articolo di cui vi ho parlato prima è stato pubblicato il 29 maggio del 2019. Per ironia della sorte, o come accade spesso solo nei film ma non solo, lo stesso giorno è uscito su un'altra rivista un articolo di alcuni ricercatori francesi che si interessava anche questo dell'estinzione dei Neandertal. Tant'è vero che la rivista Le Scienze ha recensito i due lavori insieme il mese di luglio in un articolo che si chiamava Due ipotesi per una estinzione. Siccome era uscito lo stesso giorno e era stato recensito insieme probabilmente l'avrei letto in tutti i casi l'articolo ma così sono stato costretto a leggerlo un po' più in dettaglio e quindi mi sono interessato di guardare cos'è che diceva questo articolo. E cosa diceva questo articolo? Che facendo praticamente una modellizzazione di come poteva essere variata, di cosa succedeva variando la fertilità dei Neandertal avevano visto che un piccolo abbassamento della fertilità da un valore di 0,141 a 0,137, nel senso stiamo parlando di inerzia praticamente, la popolazione da una dinamica di popolazione stabile o addirittura quasi in leggera crescita si sarebbe potuta estinguere in 10.000 anni che sono diciamo abbastanza. Ma se noi riducevamo questi numeri diciamo soltanto a 0,135 o a 0,130 il tempo necessario per l'estinzione crollava a 6.000 o a 4.000 anni con quest'ultimo numero già compatibile quasi con la durata di un evento di escursione, quindi mi sono detto accidenti, ma qua diciamo l'argomento si fa interessante. E quindi ho pensato, visto che io pensavo che questa proteina, l'AHR, fosse responsabile dell'estinzione, ho detto fammi vedere se esiste qualche relazione tra la fertilità e questa proteina. Ora c'è da dire, prima devo fare un inciso, che i Neandertal sono sempre state una specie diciamo che oggi dobbiamo chiamare al rischio di estinzione. Diciamo 10 anni fa nel 2013 alcuni avevano dato dei numeri tra 1.000 e 70.000 che sembrano già dei numeri bassi, ma 3 anni fa sono usciti due articoli in cui hanno detto che i Neandertal non sono mai stati più di 5.000 individui allo stesso tempo sul territorio e quindi praticamente possiamo dire che erano 4 gatti, bisogna dirlo, quindi questa era una popolazione a rischio di estinzione. La cosa interessante però da prendere in considerazione, indipendentemente dal valore di questi numeri che ovviamente trovano il tempo e trovano, la cosa interessante è che nel 2016 Richter facendo un'analisi dei siti dei Neandertal in Germania, aveva notato che questi qua saranno stati pochi, quindi uno dice ok sono pochi, lentamente vanno a zero. No, si sono estinti all'improvviso quando erano al massimo della loro espansione, quindi si sono estinti all'improvviso quando ce n'erano più di tutti, quando non ce n'erano mai stati così tanti e quindi questo fa pensare che deve essere successo qualcosa di improvviso e non un lento decremento che li ha portati all'estinzione. Allora i rapporti tra la radiazione dei raggi ultravioletti e la fertilità non è così diciamo banale e scontata. Vi ho portato a vedere un articolo uscito nel 2015 di alcuni ricercatori norveggesi che hanno comparato un numero significativo di individui, 8.662 persone che erano nate in Norvegia tra il 1676 e il 1878. Cos'è questo intervallo di tempo? Lo vediamo qua. In questo intervallo di tempo ci sono stati due minimi del campo magnetico terrestre, di cui il primo, il maunder minimo, è molto conosciuto perché è stato responsabile di quella che noi conosciamo come piccola età del ghiaccio. Allora hanno visto che chi era nato durante questi diciamo minimi campava praticamente di meno, di più di quelli che erano nati durante i massimi, cioè tra l'uno e l'altro di questi minimi del campo magnetico, del campo scusate, dei minimi del sole, qua stiamo parlando del sole. Come hanno spiegato i ricercatori di questo fatto? L'hanno spiegato col fatto che i raggi ultravioletti, noi lo sappiamo che hanno per noi anche un effetto positivo, cioè sono responsabili della vitamina D che per noi ci serve, però possono crearci dei problemi rispetto alla vitamina B9, cioè diminuiscono i folati e bassi livelli di folati possono avere problemi durante la gestazione e portano ad una mortalità infantile. Infatti come si vede loro hanno visto che chi era nato durante i massimi campava 5,2 anni di più, che non sono un numero così banale su 8.662 due esempi citati. Come vi avevo detto però io volevo guardare le relazioni tra la nostra proteina e la fertilità e andando a cercare in rete ho scoperto che praticamente esistono delle relazioni diciamo straordinarie. Già vent'anni fa Valdezze e Petrov avevano visto che questa proteina si conserva dal punto di vista evolutivo ed è necessaria per la normale fertilità e anche un ruolo diciamo fisiologico nel processo di invecchiamento. Successivamente hanno visto che questo la proteina è necessaria per la fertilità dei mammiferi, ha delle funzioni nella rivoluzione diciamo animale di entrambi i sessi e in un lavoro chiave uscito nel 2011 hanno stabilito che è un importante fattore biologico coinvolto nello sviluppo, nella regolazione e nella funzione dei processi produttivi sia degli uomini che delle donne. Oltre a questo tipo di processo probabilmente questa si è conservata diciamo in tempi evolutivi cioè nel corso del tempo. Quindi la nostra proteina gioca un ruolo fondamentale sulla fertilità. Qui vedete che esistono lavori in cui non voglio scendere nei dettagli che fanno vedere come la proteina agisce sulla fertilità. Facendo un piccolo inciso visto che stiamo parlando di fertilità e volevamo puntare alla demografia vi faccio vedere questo articolo uscito pochi nel 2021 in cui un gruppo di ricercatori finlandesi ha fatto una sorta di indagine, ha chiesto a 216 paleoantropologi secondo voi cos'è che ha estinto i Neandertal? La maggior parte delle risposte si è focalizzato sulla demografia. Cioè quasi tutti i paleoantropologi pensano che è stata la demografia il problema che ha portato all'estinzione dei Neandertal. Quindi mettendo assieme tutte queste cose che vi ho fatto vedere adesso possiamo scoprire l'assassino di cui vi parlavo all'inizio, cioè la fertilità. La combinazione tra i raggi ultravioletti del minimo di la SHAMP e la proteina HR ha agito sulla fertilità dei Neandertal e secondo me questo l'ha portato poi all'estinzione. Io penso ti aver detto tutto e vi ringrazio. In questo caso l'interdisciplinarità ci ha fatto le nozze, saltando di pali in frasca a pali in frasca. La struttura è uno di quei cespugli che in breve tempo diventa un gigantesco albero. Credo che visto che qui ci sono persone di svariate competenze avrà certamente suscitato degli interessi. Io mi riservo alla fine di fare una piccola domanda o fare un piccolo commento, però vorrei sentire invece gli interventi di chi abbia pensato di ritenere utile commentare ciò che ha ascoltato, cominciando dagli più diretti interessati, di paleoantropologi. Comunque chi vuole intervenire? Ecco, prego. Congratulazioni Luigi, davvero una cosa affascinante. Ti chiedevo, visto che la sensibilità alle radiazioni ultraviolette non è solamente degli umani e dei primati, se ci sono altri fenomeni analoghi a questi, di estinzione di altre specie che coincidono con il minimo della fluttuazione del campo magnetico. E l'altra cosa che ti volevo chiedere è se, oltre all'enzima che potrebbe essere una causa, se magari la pigmentazione dell'epidermide potrebbe essere un altro possibile fattore. Fattore. La pigmentazione dell'epidermide. È probabile che i sapiens fossero neri. No, è sicuro. È sicuro. Invece i Neandertal, che erano da tempo adattati a un clima, a una situazione con meno radiazione, potevano avere voluto una pigmentazione più chiara della pelle. Non lo so, è perché io non ne so niente di questa roba. Magari gli antropologi ne sanno qualcosina di più. Sicuramente gli antropologi ne sanno di più, ma sicuramente, l'avevo detto anche io, ho fatto vedere una figura in cui avevo detto che loro migravano dall'Africa, quindi partivano da un posto dove di fatto erano più abituati ad avere più raggi ultravioletti. e quindi quando poi sono migrati a nord si sono trovati in un posto dove ce n'erano meno. Quindi se poi aumentano perché accade l'evento di La Champ, ovviamente un qualche vantaggio, diciamo dal punto di vista teorico, minimo ce l'avevano già. Rispetto alla prima parte della tua domanda, forse ti manderò l'articolo, se tu guardi questa figura puoi vedere che mentre nella parte alta ci sono, diciamo, l'età delle estinzioni di Neanderthal, nella parte bassa c'è una cosa che si chiama Dung Fungi Influx Rate. Cos'è questo? Questo qua, cosa sono Dung Fungi? Allora, esistono in Australia, grossa discussione su, diciamo, le estinzioni di alcune specie, soprattutto i mammiferi a cavallo della Champ, in quell'intervallo di tempo via. Siccome è molto difficile, diciamo, andare a vedere, per il famoso Senior Lips Effect, di cui io ho parlato prima, come nel caso dei Neanderthal, vi ho detto, guardate il musteriano, che è l'industrialitica dei Neanderthal. Per gli animali non abbiamo l'industrialitica, perché non fanno niente. Allora, cosa sono andati a guardare? Sono andati a guardare questi funghi, non so se è il nome giusto, è una cosa che sta nella cacca dei mammiferi. E potete vedere qua che a cavallo della Champ praticamente scompare. Cosa vuol dire? Che scompaiono anche tutti quei mammiferi. Ci sono decine e decine di specie di mammiferi che 40.000 anni fa si sono estinti in Australia, soprattutto, ma anche in mare altre zone. Quindi non sono stati solo i Neanderthal a distingue, si sono estinti di tantissimi altri mammiferi, tantissime altre specie. Molto bene. Prego. Sulla fertilità maschile e femminile, puoi dire qualcosa di più preciso sull'effetto biologico, cos'è, sulla spermatogenesi o su qualche altro effetto che determina questo calo di fertilità? Devo dire che purtroppo mi trovo impreparato. Non mi sento di poter, diciamo, scendere in un dettaglio così grande di un argomento. Io, diciamo, quando leggevo gli articoli mi fermavo semplicemente a poter leggere se forse il professor Bolondi può dire qualcosa, perché io ne so veramente, sono troppo scasso. Ma sentiamo il presidente. Sì, grazie. Aspettavo, ma avrei fatto la stessa domanda. Perché l'ipotesi della fertilità è convincente, più che l'ipotesi di un effetto dannoso generico dei raggi ultravioletti provocando cancri o altre malattie. Perché in genere quando noi abbiamo un agente patogeno che determina delle malattie, sì, può fare delle epidemie, ma è difficile che distrugga tutta una specie. Anche per gli insetti, voi sapete, per le zanzare e altre cose si cerca di agire sulla fertilità. Se noi rendiamo infertile quel determinato animale, si estingue la sua specie. Per cui è convincente l'ipotesi della fertilità. Però anch'io mi domandavo, perché la fertilità dipende da tante cose, giustamente è stato detto la spermatogenesi o l'ovulazione, oppure la stessa, il problema che oggi è molto attuale, la motilità degli spermatozoi, oltre che il numero degli spermatozoi. Per cui, purtroppo Luigi Vigliotti non ci ha saputo rispondere su quale fosse l'effetto sulla fertilità, cioè in che cosa consistesse questa diminuzione della fertilità, se era una cosa che affigeva più l'ovulogenesi o la spermatogenesi o la motilità. Però a questo punto corre l'obbligo di richiamare il fenomeno che è in atto attualmente sull'homo sapiens, il calo della fertilità, e soprattutto sulla versante bianca dell'homo sapiens, dove il calo degli spermatozoi dei giovani adulti maschi delle nostre popolazioni occidentali è drammaticamente calato. Voi sapete che il numero di spermatozoi oggi nel giovane, mediamente, è il 25% rispetto a quello che era nell'homo anteguerra. Per cui è qualcosa che ci preoccupa notevolmente, insieme alla diminuzione drammatica della motilità di questi spermatozoi, che è fondamentale perché lo spermatozoi non basta, perché voi sapete che viene messo in un punto dove l'uovo non c'è, se ne deve andare a prendere l'uovo e a fecondarlo, ma se non si muove non ci arriva. Ecco, per cui non vorrei che fosse in atto anche una lenta estinzione, che non sembra, dai dati demografici, non sembra non tanto sul versante europeo, nordamericano e così via, perché viene compensato da un aumento che avviene in Africa e in altri paesi. Però l'ho fatto come richiamo sul problema della fertilità, che in effetti è un problema che anche oggi si deve affrontare. Finché sei il Presidente, mi permetti una domanda su questo stesso punto. Questo che è un dato di fatto, è noto e riconosciuto, d'altra parte di demografia, è nata anche Luigi, è un fatto biologico o culturale? Il calo del numero degli spermatozoi del giovane maschio bianco e della sua motilità è tuttora senza spiegazioni chiare. Non esiste una spiegazione univoca. Forse vuoi dire qualcosa? Ti vedevo sorridere, no? No, sarebbe un problema interessante. L'hanno studiato in tutti i modi, ma non si riesce a capire. È un'estinzione del mondo occidentale o è un effetto della cultura occidentale che arrivata o andando verso l'estinzione produce un effetto biologico così macroscopico? Chiudo la domanda perché... Siamo lontani dalle estinzioni comunque, visto che siamo oltre 8 miliardi, ma comunque... Sì. Forse se ne calassero un pochettino non sarebbe male per la Terra, ma dipende come li facciamo calare. C'era Giovanna Belcastro. Grazie, grazie intanto della presentazione e anche della suggestione, no? Perché in effetti i neandertaliani sono sempre molto interessanti per la loro... come dire anche così, per questo processo di estinzione, che ormai ovviamente è certo, a parte diciamo lo strascico genetico che hanno lasciato nella nostra storia evolutiva. Quello che volevo dire, e quindi è un'ipotesi interessante che si somma anche ad altre ipotesi legate all'estinzione dei neandertaliani. Volevo aggiungere giusto due cose. Intanto il fatto che noi non consideriamo, secondo me in generale, che siamo noi un fenomeno anomalo, tra virgolette, nell'evoluzione umana, perché le popolazioni sono sempre state demograficamente proprio rappresentate come una sorta di maglia molto lassa, sia i neandertaliani, i delbergensis, tutte le popolazioni che ci hanno preceduto. E quindi anche Homo sapiens è andato incontro dei processi di estinzione, in realtà. Cioè nel senso che al momento in cui è uscito fuori dall'Africa, tra i 70 e i 60 mila anni fa, ha avuto un primo ingresso in Europa, in alcune aree che adesso vengono riconosciute come questo plateau iraniano, insomma in Persia. Ma da lì poi in realtà si sarebbe parzialmente spostato verso l'Asia, ma anche estinto. Cioè le popolazioni sono andate incontro a una fortissima riduzione, quasi a rischio di estinzione. E rischi di estinzione ce ne sono stati anche altri in, diciamo, in fasi precedenti, insomma, dell'evoluzione, ai delbergensis e tante altre specie. E quello che appunto mi chiedo, questo modello come mai non si adatta su Homo sapiens, sulle prime forme e popolazioni arcaiche di Homo sapiens, che in realtà entrano in Europa, in Eurasia, intorno ai 60 mila circa anni fa, non si espandono subito, però dovrebbero essere teoricamente rappresentate, diciamo, aver subito, per così dire, gli stessi effetti. E poi mi chiedo, anche momenti molto, diciamo, non so, dalla transizione tra Pleistocene inferiore e Pleistocene medio, che è appunto legata a questa inversione della polarità magnetica, in effetti lì non ci sono fenomeni riconoscibili di estinzione. Anzi, c'è Omaidelbergensis, che ha una forte espansione dall'Africa verso tutta l'Eurasia. Quindi, insomma, sì così, sono più che altro curiosità e suggestioni su un'interessantissima proposta che si aggiunge ad altre. Diciamo, io vi ho parlato, diciamo, delle estinzioni di Neanderthal come, diciamo, uno degli argomenti dell'articolo che noi abbiamo pubblicato, ma se lei ha visto il titolo dell'articolo, il titolo dell'articolo è il ruolo del, diciamo, del campo magnetico terrestre, non nell'estinzione, non c'è scritta nessuna parola, c'è scritto nell'evoluzione. Se lei legge l'articolo, noi volevamo puntare molto più in alto di trovare un'estinzione, perché noi volevamo dire che addirittura questi raggi guidano l'evoluzione. Purtroppo non siamo riusciti a, diciamo, questo era il nostro target di quando abbiamo iniziato a scriverlo. Cioè, se lei vede, io ho fatto vedere solo la figura 3, ci sono quattro figure, la figura 4 fa vedere come, ogni volta che c'è, purtroppo non ce l'ho qua con me, ogni volta che c'è un minimo del campo magnetico, la genetica cambia, di tutti quanti cambia in maniera fondamentale. Tant'è vero che il mio collega americano si era interessato di far fare un esperimento da alcuni medici per cercare di capire se noi potevamo, la nostra idea era di capire se quello che si chiama il mutation rate, che è una cosa finta praticamente, perché va assunta come fissa, un numero che cambia a seconda degli articoli, ma è fisso, invece non è fisso. Cioè, ogni tanto, ha delle accelerazioni legate ai raggi ultravioletti. Stanno uscendo degli articoli, è uscito uno l'anno scorso, in cui in qualche modo fanno vedere che ci sono questi tipi di processi di accelerazione. Ovviamente, metterli assieme alla tempistica è molto difficile. se i Neandertal si fossero estinti, non 40.000 anni fa, ma 50 o 60.000 anni fa, io non potevo fare questa presentazione. Sabe perché? Perché non avevamo la capacità di poter combinare la tempistica in maniera così decisiva, perché 40.000 anni fa è al limite del carbonio 14. 50 o 60.000 sarebbe stato fuori il carbonio 14 e avremmo potuto dire ma vabbè, stanno più o meno là. Quindi, quando andiamo tipo nel quaternario due o trecentomila anni fa, le datazioni, sono tutte farlocche quelle. Io quando leggo articoli che datano queste cose qua, o hai qualche metodo veramente per dire una cosa a due o trecentomila anni, ma non è che puoi fare datazioni a quell'età con una risoluzione di decine di migliaia di anni di errore. Non esiste ancora la metodologia di quello. Bene. Altre domande? Vai. Si tratta di questo. Mi hai suggerito una faccenda. La celebre estinzione delle faune australiane, che sono proprio di 40.000 circa anni fa, in realtà sono dei picchi diversi, però c'è una molto grossa lì. Dal momento che quel picco di estinzione o qualcuno all'intorno viene imputato, c'è robusta letteratura su questo, agli umani che sarebbero arrivati lì proprio in quel periodo lì, ecco magari una roba del genere potrebbe sollevare l'umanità da una delle sue, delle responsabilità un po' più pesanti che anche, è una questione molto dibattuta. Quindi potrebbe davvero essere questa una faccenda? Ma è sicuramente una questione molto dibattuta, ho letto decine di articoli sulla questione degli australiani, dove sai che là si sparano su questi tipi di, ci sono commegni in cui ci sono proprio, vengono alle mani di quelli che dicono sono stati gli umani e quelli invece che dicono gli umani non c'entrano niente, quindi qua siamo ancora lontani da questi tipi di processi, ma sono d'accordo con te, diciamo sicuramente questi tipi di progetti possono aver avuto è una coincidenza? Sì, no, no, è una coincidenza, è coincidenza più che coincidenza. Altre domande? Bene, se non ce ne sono, sì? Sì, ero un po' pure. Ho ascoltato con molto interesse quello che ci è stato raccontato, la mia impressione è che certamente i fattori i paleomagnetici si sono stati e hanno influito su tutta l'evoluzione, non solo sull'evento, diciamo non è un evento, non solo sull'estinzione dei neandertaliani, quanto e come abbiano influito le modalità con cui si sono espressi gli effetti poi di questa influenza, io credo che sia giusto, anche bello approfondirli, ma non li scopriremo mai. C'è sempre qualcosa che rimane incerto da approfondire. Se non ci sono altre domande ringraziamo ancora Luigi Vigliotti e io vi invito ai programmi dell'anno dell'Accademia prossimo su tematiche relative alla storia della Terra. Grazie e arrivederci. qui? Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.